Un caro saluto, un caro saluto a tutti da Diego Fusaro. Perché la Cina non vuole che la Russia perda la guerra d'Ucraina? O se preferite, perché la Cina desidera fortemente che la Russia risulti vincitrice nella guerra d'Ucraina? In fondo si potrebbe dire che la Cina ben farebbe a farsi i fatti propri, a curarsi delle proprie vicende, a rimanere proiettata in se stessa, senza prendere parte a queste logiche conflittuali. E invece la Cina da subito ha preso posizione, tra l'altro anche in maniera a tratti ambigua, perché in certi momenti si è presentata nel ruolo di pacere, quindi come forza super partes che prova o ha provato in passato a favorire le trattative, i dialoghi, addirittura propose qualche tempo addietro un possibile piano di pace in alcuni punti fondamentali, poi non andò in porto la proposta e tuttavia vi fu da parte della Cina. In altri contesti la Cina si è presentata come parte in causa del conflitto schierandosi apertamente con la Russia di Putin, ad esempio Xi Jinping si è recato non a Washington ma a Mosca per potenziare la cordiale intesa come è stata definita fra Russia e Cina. Perché dunque la Cina è così vicina, scusate il bisticcio di parole, alla Russia di Putin. Per tanti motivi, intanto perché la Russia è un paese limitrofo diciamo rispetto alla Cina e quindi ha tutto l'interesse a che gli americani non si avvicinino troppo direttamente o con fantocci, liberali atlantisti, modalità Zelensky o Navalny. E poi perché la Cina sa molto bene che nel mirino dopo la Russia c'è lei stessa. Detto altrimenti la Russia è per Washington il nemico solo nel breve termine. Sul lungo termine il vero nemico per Washington sarà la Cina. Sicché la Cina non crede alla narrativa di Washington secondo cui bisogna lasciare la Russia sola perché sa bene che lasciata la Russia sola la Russia potrebbe essere più facilmente sconfitta e poi gli Stati Uniti una volta sconfitta la Russia potrebbero arrivare direttamente alla Cina. Cosa che in parte peraltro stanno già facendo utilizzando Taiwan come punto caldo, l'equivalente dell'Ucraina e dell'uso che dell'Ucraina gli Stati Uniti da anni hanno condotto in funzione antirussa. Per questi motivi fondamentalmente la Cina ha tutto l'interesse ad appoggiare la Russia, non tanto per filantropia innata quanto per interessi personali naturalmente che fanno sì che il dragone cinese e l'orso russo mai come in questo momento siano così vicini e stretti in quella che è stata a giusto titolo definita una cordiale intesa.